con sky go e sky go plus la tua tv è sempre con te ovunque tu sia con sky go non perdi mai la tv che ami puoi guardare dove vuoi oltre 40 canali in streaming grazie alla connessione wifi o 3g e non perderti tutti i più importanti eventi sportivi la serie a team le partite di calcio internazionale i grandi live show e le serie tv più amate inoltre puoi restare sempre informato sulle news in tempo reale guardare i documentari più spettacolari i migliori programmi per bambini tutto da vedere dove e quando vuoi puoi avere a disposizione una biblioteca completa con migliaia di titoli e trovare in qualsiasi momento il programma perfetto per te inoltre se disponibile puoi decidere di guardare un programma in italiano o in lingua originale con sky go puoi registrare fino a due dispositivi tra smartphone tablet e pc e se sei in mobilità puoi ridurre la qualità del video per limitare il consumo di traffico dati del tuo abbonamento sky go è gratis per tutti i clienti sky da almeno un anno e se vuoi ancora di più non perderti sky go plus con sky go plus puoi scaricare i programmi che ami direttamente sul tuo tablet e pc guardarli davvero ovunque anche senza connessione internet grazie al nuovo download and play da tablet dovrai solo selezionare il pulsante da un sui programmi on demand che vuoi vedere nella sezione my tv in download and play troverai tutti i programmi che hai terminato di scaricare sul tuo dispositivo e potrai verificare lo stato di avanzamento dei tuoi download gestendo la priorità quando hai più contenuti in coda da pc puoi anche salvare i tuoi programmi semplicemente installando l'applicazione sky go download player disponibile nella sezione dedicata su sky go.it con tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo puoi guardare in un secondo momento i programmi scaricati disponibili fino alla data indicata inoltre con sky go plus puoi gestire i tuoi programmi come vuoi ad esempio se il tuo show preferito è già iniziato non preoccuparti perché grazie al tasto restart potrai rivederlo dall'inizio puoi mettere in pausa un programma in diretta e riprendere nella visione quando vuoi esattamente da dove l'hai lasciato e con replay puoi rivedere tutte le scene che più ti hanno emozionato come il gol della tua squadra del cuore con sky go plus puoi registrare fino a quattro dispositivi diversi tra smartphone tablet e pc per scegliere in qualsiasi momento quello più adatto alle tue esigenze per attivare sky go e sky go plus bastano pochi semplici passi accedi alla sezione fai da te su sky.it oppure entra nell'app sky fai da te nell'area arricchisci abbonamento seleziona servizi a questo punto attiva il servizio più adatto a te e gioco il fatto per avere sky go e sky go plus su tablet smartphone cerca sky go nella barra di ricerca degli store abilitati e scarica l'applicazione per averlo sul pc basta andare su sky go.it adesso non ti resta altro che goderti lo spettacolo